La Russia sta perdendo, l'Ukraine avanza sul fronte ovest? No, è tutta una propaganda dei medi occidentali filoamericani, filonato, capito? Non mi ha le basi, quindi loro decidono cosa dire in televisione, ma non è vero niente. Sì, può essere, però è una lunga guerra di logoramento, capito? Ogni tanto tirano una bomba, cioè voglio dire, guarda il Vietnam, voglio dire, quei benefattori degli americani tiravano bombe a grappolo come se su centinaia, migliaia di case, e quelli morivano tutti, su mille case c'erano tipo Fallujah, su mille case sono morte mille persone, quella è la guerra vera, questo è un gioco, cioè sì, ogni tanto tirano un missile, poi sparano, poi vanno a contatto, poi si ritirano, poi indietreggiano, certamente sono morti molti soldati, poi Putin non ha problemi perché alla Cina, all'Iran, insomma, dorme suoni tranquilli, dorme suoni tranquilli, tra l'altro perché Putin è il nemico dell'Occidente, perché è il nemico dell'America, perché Putin difende gli interessi di Assad in Siria, e Assad era il nemico giurato degli americani, perché la Siria è ricca di petrolio, e l'Iran, capito? E l'Iran, l'Iran è un... non si capisce perché, sai, gli americani difendono il blocco sunnita, e il blocco sciita è difeso dalla Russia, quindi è per quello che la Russia è... Poi tra l'altro gli sciiti sono molto meglio, sono meglio, diciamo, generalmente sono meglio gli sciiti dei sunniti, come etnia di musulmani, quindi questo dovrebbe far riflettere, sono molto più secolarizzati, trattano anche la donna in maniera diversa in certe zone, quindi voglio dire, il mondo è molto più complesso di quello che te lo racconta la televisione, solamente interessi economici e di potere, per esempio c'è lo Yemen, lo Yemen è bombardato, martellato dall'Arabia Saudita, filo americana, cioè l'Arabia Saudita fa una guerra con le armi degli Stati Uniti, non lo Yemen, quindi voglio dire, vedi, che è molto peggio di quella ucraina. Comunque, quindi il mondo è molto più complesso, non è buoni contro cattivi, bianco contro nero, questa è la narrazione della Nato, la narrazione filo occidentale, che così vi racconto le balle che vogliono loro. Comunque, detto questo, Putin non sta perdendo nulla, Putin ha vinto sul piano, anzi, più dura la guerra più Putin porta a casa soldi. Cioè Putin è lì che gode, perché più dura, cioè lui non so, adesso non so, l'incasso di Gazprom è triplicato, ogni giorno è triplicato rispetto a un anno fa, quindi lui sta guadagnando caterve di miliardi di dollari, capito? Cioè è il contrario di quello che dice, quello che sta succedendo, guarda caso, è l'opposto di quello che dice la televisione, ma è meraviglioso. Quindi sta guadagnando su quel fronte, sta ricompattando tutti i suoi alleati, l'India, che è un alleato storico della Russia, sono miliardi, la Cina sono miliardi, la Cina spinge un bottone, Taiwan sa la piglia, quando vuole, l'ha dimostrato ampiamente, non diciamo, ma tanto nel portere inglese colato a picco, non mi sembra che gli avversari siano molto valorosi. Tra l'altro uno buzza on the ground, quello diceva Churchill, no? Buzza on the ground, se tu ci credi, sei convinto, ci vai, non è che mandi quattro fusili ad acqua, insomma. E quindi niente, dai, non succede nulla, anzi, succede che, ti ripeto, la vittoria diplomatica è sotto gli occhi di tutti, di Putin, sta ricattando il mezzo mondo, ha ricattato miliardi di persone, probabilmente dovremmo spegnere il riscaldamento, spegnere le lampadine, spegnere qualsiasi forma di energia nella nostra casa, chiuderanno le piscine pubbliche, sta ricattando il mezzo mondo Putin. Le piscine al 90% chiudono, perché non hanno le insolite, voglio dire, cioè, verrà adottata una politica di risparmio, appunto perché non c'è energia, o se c'è costa mille volte di più, te la dà solo la Russia, perché nella rinnovabile non basta, sì, ho visto qualche pala eolica in appennino, 4-5 pale, ma cosa vuoi che faccio, andranno, che a me va benissimo l'eolico, fatelo, chi se ne frega, però c'è anche un prezzo, però, perché per esempio a livello paesaggistico ho visto ste pale, insomma, anche nell'Adriatico le vogliono mettere, però poi sono località turistiche, che, insomma, il turista viene a vedere una pala, cioè, anche se ha 10 miglia, comunque la vedi, a 16 miglia la vedi, non è che non l'ha, ma sono a 16 miglia, sì, ma ne metti giù 200, le vedi, non è che non le vedi, le vedi, quindi c'è anche un danno per il turismo, cioè, è un prezzo altissimo che paghi, è un prezzo altissimo, è normale che la sovrintendenza le blocchi, perché sono danni ambientali, mettere migliaia di pannelli solari è un danno ambientale, è un danno ambientale, capito? Poi, sarà inevitabile farlo, quindi lo farai, sarà inevitabile il ritorno nucleare, cioè, le destre vogliono tornare al nucleare, poi ti dico anche un'altra cosa, che io ovviamente non sono d'accordo da ambientalista convinto, ma ti dico un'altra cosa, che c'è l'altra vittoria di Putin, all'avanzata della destra in Svezia, la Svezia aveva votato per la Nato, capito? La Svezia, la Svezia diventerà un altro orgo dalla bilanza, un altro vittoria di Putin, perché più le destre avanzano, più Putin prende voti, in Italia è uguale, perché Salvini vuole contattare, firmare accordi con la Russia, il partito di Putin è Salvini, di fatto, la Lega è il partito di Putin in Italia, è il referente di Putin in Italia e nonostante quello prende milioni di voti, quindi voglio dire.